E verrà come il sole che sorge al mattino Volerà come il vento che vola lontano Canterà, canterà come canta un bambino Correrà come chi vuole dirti è vicino Il Signore è qui Carissimi, bentrovati in questo nostro appuntamento alla ricerca dei doni dello Spirito Santo che vengono sparsi dal Creatore in ogni cuore L'incontro fra di noi è un incontro che ci permette con gli occhi giusti di scrutare la bellezza della creazione la bellezza dell'impronta di Dio su ciascuno Per me è importante che questa carrellata che stiamo vivendo accanto a tanti fratelli e sorelle che vengono riconosciuti santi, beati dalla Chiesa Cattolica non sia semplicemente il desiderio di raggiungere un ideale di santità grande, certamente molto bello ma sia anche lo spunto per poter riconoscere come diceva già Giovanni Paolo II e come ci ricorda spesso anche Papa Francesco la santità del quotidiano il santo nel fratello della porta accanto il santo che è nascosto dietro anche agli incontri occasionali della nostra vita Vorrei che ciascuno di noi in questo momento potesse fare memoria di tutte le persone che con la presenza di Dio hanno sfiorato la loro vita Pensiamoci quanti santi abbiamo incontrato nella nostra esistenza sia quelli magari elevati agli onori degli altari ma anche santi senza nome, senza volto santi che hanno attraversato, incrociato e anche fatto del bene a noi, alle persone care quante persone sono attorno a noi in una presenza di bene a volte non ce ne accorgiamo certamente questo bene non si presenta in un modo eclatante o troppo sfolgorante ma a volte anche nonostante la fragilità delle sembianze possiamo riconoscere il bagliore della luce di Dio questo segno di presenza, di vicinanza è accaduto così che nel confine tra l'Algeria e il Marocco un mendicante che sembrava ebreo si presentasse affaticato stremato da un viaggio aveva camminato 3000 km per anni visitando una terra, quella del Marocco che a fine Ottocento era una terra proibita agli europei lui era di origine francese e si chiamava Carlo tutti lo conoscono come Charles de Foucault lui amava chiamarsi il fratello Carlo o Carlo di Gesù incontriamo oggi un'esperienza in quest'uomo e in questa vita che già nel 1921 è uscita come biografia pochi anni dopo la sua morte e ha colpito tantissimi uomini e donne del ventesimo secolo ha lasciato traccia di sé in una serie infinita di esperienze di vita religiosa è per questo che penso sia importante incontrarlo Carlo di Gesù Charles de Foucault beato, riconosciuto beato dalla Chiesa nel 2005 è certamente un personaggio che può dirci una attenzione nuova, rinnovata alla presenza di Dio accanto a noi senza che ce ne accorgiamo io sono solito dire appunto che spesso le nostre chiese soprattutto quelle seminate nei quartieri delle grandi città sono trascurate nella frenesia della vita tante persone passano davanti ai tabernacoli di fianco alle chiese dove è custodita l'Eucarestia senza più farsene caso è così è il mistero diceva Charles de Foucault di Nazareth è quel mistero che tanto ci affascina della vita di Gesù i trent'anni nascosti i trent'anni nei quali nessuno tranne Maria si è accorto del tesoro che era nato a Betlemme e che camminava percorreva lavorava sudava faticava soffriva amava nelle terre di Palestina ormai duemila anni fa e questa è l'intuizione che ha colpito il fratello Carlo e che vogliamo andare a incontrare in questo nostro passo che facciamo sulla via della Gaudete ed Exultate la esortazione apostolica di Papa Francesco Carlo nasce in Francia a Strasburgo il 15 settembre del 1858 è l'anno delle apparizioni di Lourdes viene battezzato dopo due giorni e scrive riguardo alla sua nascita mio Dio noi tutti dobbiamo cantare la tua misericordia figlio di una santa madre ho imparato da lei a conoscerti ad amarti a pregarti il mio primo ricordo non è forse la preghiera che mi faceva fare al mattino e alla sera mio Dio benedici il papà e la mamma il nonno e la nonna e la sorellina ma la mamma il papà e anche la nonna paterna morirono nel 1864 quando Carlo aveva appena sei anni il nonno materno accolse presso di sé questi due bimbi insieme alla sorella Marie di tre anni un nonno che ha circondato le infanzie di Carlo e la sua giovinezza di un'atmosfera d'amore molto intelligente del quale ha sentito sempre con emozione il calore e questa l'ambientazione dell'infanzia di fratello Carlo cresciuto dal nonno orfano di padre e di madre si avvia verso una carriera di grande capacità di grandi capacità certamente siamo a fine ottocento siamo in Francia a Strasburgo Carlo è intelligente senza difficoltà ma ama le letture si impegna a mantenersi negli studi e cresce in un mondo nel quale però purtroppo la fede è diventata un ospite a volte sgradita il gusto dello studio mi ha attirato alla conoscenza mi ha anche però fatto del male dice Carlo per dodici anni non ho rinnegato né niente né creduto in niente disperando della verità non credendo più nemmeno in Dio nessuna prova mi sembrava abbastanza evidente a 17 anni ricorda dentro di me c'era solo egoismo vanità cattiveria desiderio di male ero come impazzito ecco una confessione che possiamo ritenere per vera non c'è motivo di dubitare che Charles de Foucault parli del suo passato cambiando i termini proviamo a metterci nei panni di chi l'ha conosciuto a quell'età egoista desideroso di fare del male quasi impazzito certamente la sua percezione del suo passato può essere anche un po' enfatica ma come giudicheremo un ragazzo di 17 anni che si comporta così come potremmo immaginare che sotto i veli di questa disperazione di questo ateismo di questo disincanto di illusione di tutto e su tutti si nasconda un santo certo ci può far riflettere questo nella vita quotidiana ebbene Charles messo in questo modo con questa vita irruente che nasce in lui decide di fare la carriera militare e quindi si prepara studia finché non diventa ufficiale dell'esercito e come appunto militare vive una vita sregolata come sappiamo o comunque può accadere soprattutto per quanto riguarda il bisogno di completare quello che è una realtà super ordinata super squadrata è chiaro che poi la vita ha le sue esigenze soprattutto dice Carlo nel cibo trovava grande conforto nei piaceri della vita ecco in quello che legittimamente gli veniva concesso e nel 1880 Carlo fa un'esperienza affolgorante che gli cambierà la vita scopre la natura della Nord Africa in missione appunto in Algeria con l'esercito descrive così questo incontro la vegetazione è superba le palme gli allori gli aranceti è davvero un gran bel paese l'Algeria ne sono rimasto incantato in mezzo a tutto questo gli arabi vestiti di bianco e colori vivaci con tanti cammelli piccoli asini e capre che danno certamente a tutto questo ambiente un aspetto pittoresco questa esperienza dell'Algeria è un'esperienza che se vogliamo è il culmine della vita di Carlo ha già più di 40 anni certamente nella sua giovane età dopo i 20 anni di di missione nell'esercito vive e sperimenta un fallimento la sua presenza in Africa la sua presenza come militare e anche la sua obbedienza entrano in conflitto con il suo desiderio di vita e tanto che appunto viene rispedito in Francia appunto all'età di 22 anni viene rispedito in Francia e trova un po' quello che Sant'Ignazio dicevamo trova nella malattia marresa cioè di fatto un blocco un momento di stop rispetto a quella che è la sua vita così sfrenata e anche piacevole ma ecco mentre sta di nuovo in Francia e cerca di riconoscere un po' il limite di questa sua vita gioiosa scopre un altro fatto che la sua la sua compagnia militare affronta una trasferta in Tunisia e l'idea di poter scoprire un altro paese un altro territorio lo affascina tantissimo per cui si butta di nuovo nell'avventura militare abbandona di nuovo la Francia abbandona anche la donna con la quale aveva quasi deciso di fare un progetto di vita e torna torna attratto da questa esperienza per un altro anno di vita militare ma poi di nuovo la trasferta finisce ritorna a vivere la vita di caserma e si accorge che c'è qualcosa che non va in questa staticità per cui si dimette definitivamente dall'esercito è il 1882 a 24 anni ma non torna in Francia e progetta di fare un'avventura ancora alla ricerca ancora un grande cercatore di Dio fratello Carlo decide di avventurarsi non ad oriente ma ad occidente dell'Algeria ai confini con il Marocco il Marocco era una realtà proibita per i viaggiatori europei e appunto compie questo viaggio a piedi sotto mentite spoglie travestendosi cercando di evitare di essere riconosciuto e in quattro anni compie quello che è un viaggio memorabile non solo per quello che ha compiuto ma proprio perché durante il viaggio Carlo si scrive un diario appunta cerca di non farsi notare e il patrimonio di questi quaderni diventa un'occasione nuova per Carlo per riflettere sull'esperienza dell'umanità per riflettere sull'esperienza della bellezza che lui cercava non riesco a dire quanto devo quanto quante lodi devo ad hadiburim lui al termine del mio viaggio fu l'amico più sicuro più disinteressato più devoto in due occasioni ha rischiato la vita per proteggermi questo uomo marocchino che di fatto lo accompagna e lo protegge Carlo in lui scopre una bontà che non conosceva dopo un certo tempo aveva capito che ero cristiano io stesso gliel'avevo confermato in seguito ma questa prova di fiducia non fece che aumentare il mio attaccamento è stato duro ma molto interessante questo viaggio ci sono riuscito ed è proprio un viaggio che avvierà Charles de Foucault a un altro viaggio dopo questa esperienza pensate in un paese completamente sconosciuto e anche affascinante dopo aver rischiato essere stato preso a sassate aver rischiato di morire oramai a 28 anni Carlo decide di mettere per iscritto questa avventura ma proprio il tornare in Francia tornare presso la sua famiglia e rileggere questo viaggio che oramai ha compiuto tutte le sue curiosità i suoi desideri lo porta a sperimentare una grande novità e che è proprio il viaggio che lui percorre dentro di sé sentite cosa dice Charles de Foucault all'inizio dell'ottobre del 1886 erano sei mesi che ero insieme alla mia famiglia a Parigi e stavo facendo stampare gli scritti del mio viaggio in Marocco mi trovai con delle persone molto intelligenti virtuose e anche molto cristiane in particolare l'incontro determinante fu con la cugina una cugina che appunto molto intelligente e molto affascinante si dimostrava essere una persona anche molto credente di una fede profonda nello stesso tempo sentivo crescere dentro di me una grazia e una forza interiore che mi spingeva e ho iniziato ad entrare in una chiesa non ero credente non mi trovavo bene però se non in quel luogo vi trascorrevo lunghe ore e ripetevo l'unica strana preghiera che mi sgorgava dal cuore e con questa preghiera vogliamo proprio ricordare Charles de Foucault una preghiera che vogliamo fare insieme sentite un po' mio Dio se esisti fa che io ti conosca è una preghiera che ci colpisce e che Charles ripeteva continuamente in questi luoghi sacri dove trovava pace ancora non sapeva come sarebbe continuata la sua vita ma in lui è nata questa intuizione che già era presente nelle preghiere che la mamma gli aveva insegnato mio Dio se tu esisti fa che io ti conosca questa è una preghiera che vogliamo anche ripetere noi perché non possiamo dar per scontato che conosciamo un Dio del quale molti dubitano l'esistenza e questa conoscenza possa essere veramente il cuore della gioia ecco fratello Carlo ha incontrato al termine di questa prima fase della sua vita una preghiera che gli ha dato pace signore fa che io ti conosca aiutami a conoscerti e ad amarti ave maria splendore del mattino puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore protegga il nostro popolo in cammino la tenerezza del tuo vero amore puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore protegga il nostro popolo in cammino la tenerezza del tuo vero amore protegga il nostro popolo in cammino la tenerezza del tuo vero amore in cammino